Collagene marino è il brand di Optima Naturals dedicato alla bellezza in and out, integratori e cosmetici studiati e formulati per integrare e sostenere il collagene del nostro corpo. Il collagene è una proteina alla base di tutti i tessuti connettivi del nostro corpo, di cui la nostra pelle è costituita per il 75%. Una sua inevitabile progressiva diminuzione porta i cosiddetti segni dell'invecchiamento, minor tonicità di pelle e muscoli e rigidità articolare. Collagene marino liquido pronto da bere è la formula esclusiva di Optima Naturals efficace e dal gradevole gusto arancia. Questo integratore alimentare è a base di collagene marino idrolizzato di tipo 1, acido ialuronico, vitamina C, vitamina E, vitamina B6. Sono molti i fattori che influenzano la riduzione della produzione di collagene da parte del nostro organismo. Il passare degli anni, una cattiva alimentazione, una dieta sbilanciata, il consumo di alcol e tabacco e l'uso di farmaci. Tutti questi fattori determinano la perdita di tono ed elasticità della pelle. Per queste ragioni diversi studi hanno evidenziato la necessità di integrare il collagene, una proteina vitale per l'uomo. Il collagene marino di Optima Naturals è quello di tipo 1 derivato dal pesce ed è considerato il più nobile tra i collageni. La qualità superiore è data dall'alta concentrazione in alcuni aminoacidi fondamentali come la glicina, la prolina, l'idrossiprolina, la lisina e l'idrossilisina che lo rendono più solubile, digeribile e più facilmente assimilabile. Grazie a queste proprietà l'efficacia del collagene marino nei trattamenti è visibile già a partire dalla prima settimana di integrazione. Completano la formula acido ialuronico per sostenere i corretti livelli di idratazione. Vitamina C, E e B6 adeguatamente dosate supportano la formazione del collagene, contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e coadiuvano il normale metabolismo delle proteine. Collagene marino di Optima Neturas è disponibile nel formato PRO 10.000 mg, un trattamento urto iniziale ad alto dosaggio, nel flacone da 500 ml come trattamento di mantenimento con un dosaggio pari a 5 g di collagene per dose. Assumere collagene marino preferibilmente lontano dai pasti per garantirne un miglior assorbimento.